Sta ora davanti a noi il secondo grande ritratto di Dio, così come appare nell'interno della preghiera salmica. È l'immagine del Dio creatore. Vorrei iniziare con le parole di origine, questo grande scrittore cristiano del III secolo, mentre sta imbarcandosi, il verbo è significativo, come vedrete, nell'esegesi del Libro della Genesi. Scrive, come chi messosi in mare su di una barchetta viene preso da un'immensa angoscia nell'affidare un piccolo legno all'immensità delle onde, così anche noi soffriamo, mentre osiamo inoltrarci in un talmente vasto oceano di misteri. Così egli confessava la sua emozione, un'emozione che si riverbera, dobbiamo dire, in ciascuno di noi, quando, per esempio, in una notte stellata si contempla la Via Lattea col suo miliardo di stelle, o quando, sulla scia anche delle recenti ricerche scientifiche, non si parla più di universo, ma di multiverso. Secondo gli scienziati, perciò, il nostro pur immenso universo sarebbe solo uno dei tanti universi. Gli altissimi spazi siderali, pensiamo a Pascal, sono impressionanti sempre, ma anche se noi dovessimo semplicemente mettere in parallelo, con la Via Lattea, aprendo la nostra scatola cranica già nell'interno del nostro cervello. Abbiamo un miliardo, pare, di neuroni, quindi saremmo ancora nell'interno di un universo impressionante. Ebbene, la fede ci invita a varcare questo sconcerto e lo fa attraverso una riflessione sul senso dell'essere, una riflessione che già è presente nell'autore giudeo-ellenistico del Libro della Sapienza, una frase che noi tutti conosciamo e che è cara, era cara anche a San Paolo, che la cita indirettamente. Sapienza 13,5 Qui il greco è importante perché analogos è scala, gradino per gradino. In una scala ascensionale è l'analogia che è di passaggio in passaggio verso l'autore che si contempla la traduzione che viene usata. In realtà in greco abbiamo theoreitai, contemplare ma anche avere l'uso della nostra ragione. Qui ritorneremo oggi, proprio ora, per completare il discorso di prima. Il cogito permane, non è cancellato dal cogitor, perché Dio non vuole avere come interlocutore una stella che obbedisce a leggi fisiche soltanto. San Paolo era altrettanto convinto di questa operazione. Le perfezioni invisibili di Dio, ossia la sua eterna potenza e divinità, vengono contemplate, teorei, e comprese dalla creazione del mondo, a partire dal creato, attraverso le opere da lui compiute, è il commento di Romani 1,20, a Sapienza. Con un bel gioco di parole, un autore che era probabilmente contemporaneo, un grande pensatore giudeo-ellenistico, che era contemporaneo dell'autore del libro della Sapienza, quasi certamente, forse immediatamente successivo, cioè Filone Alessandrino, faceva in un suo testo un gioco di parole veramente suggestivo in greco. Diceva, tutte le opere che ci circondano sono, le opere creaturali di Dio, sono i suoi poiemata, cioè le sue opere, poiem, fare, le sue creature. Ma al tempo stesso, diceva, sono anche i suoi poiemata, cioè i suoi poemi, i suoi messaggi che egli invia all'umanità. Ed è per questo motivo che la preghiera salmica celebra questa seconda grande teofania. Dopo la teofania della parola che crea, c'è la creatura che è frutto di quella parola. Infatti, il salmista canta, dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera. È il Salmo 33, versetto 6. Ecco, il creato, perciò, è una diversa parola di Dio. Ed è a questo punto che allora poniamo al centro della nostra meditazione il Salmo 19. Il Salmo 19, molto celebre, come si sa, è l'espressione di un atteggiamento costante, potremmo dire, nell'interno della Bibbia. Per la Bibbia non esiste la natura. Per la Bibbia esiste il creato, che è diverso. Esiste il cosmo, cioè una realtà che ha in sé un senso, ha in sé un progetto. L'universo contiene, diceva un commentatore, uno dei grandi commentatori del Salterio, il tedesco Hermann Gunkel, diceva, contiene una musica teologica silenziosa. E questo simoro non è un paradosso, perché è un messaggio che non ha parole, sonore, echi, eppure può essere scoperto. Tant'è vero, eccoci allora al Salmo 19, che il Salmo 19 su questo è proprio esplicito. Gli spazi astrali sono, dal Salmista, personificati, come gli astri, sono testimoni dell'opera creatrice di Dio. Anzi, sono narratori. I cieli narrano la gloria di Dio. Continua il Salmista, il giorno al giorno ne affida il racconto, e la notte alla notte ne trasmette notizia. Quindi abbiamo la rappresentazione delle creature come messaggeri. Se vogliamo dirlo in un'altra maniera, nell'universo c'è un kerigma, un annuncio, che deve essere decifrato, un Vangelo di luce e di gioia, comunicato però senza linguaggio, non è la parola di prima. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, continua il Salmista. Eppure per tutta la Terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. E' quindi necessario avere un orecchio, e un occhio soprattutto, particolarmente attento per riuscire a scoprire il Dio della natura, e meglio diciamo il Dio del creato, il Dio nel creato. Il cardinal e teologo Jean Danielou aveva usato quell'espressione, la rivelazione cosmica. Questa rivelazione cosmica è aperta a tutta l'umanità. È una sorta di rivelazione universale. San Giovanni Crisostomo commentava così il Salmo 19. Sono belle parole, devo dire poi, Crisostomo scriveva anche con fascino. Questo silenzio dei cieli è una voce più risonante di quella di una tromba. Questa voce grida ai nostri occhi e non alle nostre orecchie, la grandezza di chi li ha fatti. Ecco, è significativo che ci sia un messaggio visivo anche. Ed è questo un aspetto forse, adesso vedremo, da recuperare anche della nostra spiritualità. Nella liturgia sinagogale del giorno di Shavuot, che è la Pentecoste nostra, c'è un bellissimo inno che immagina che tra il cielo e la terra Dio abbia disteso una pergamena. E su questa pergamena ha scritto un messaggio che noi dobbiamo leggere. Sono le sue creature. Però, conclude questo inno, ha dato a noi anche le canne, le cannucce, per poterle strappare e scrivere il nostro Alleluia, cioè la nostra lode, il nostro ringraziamento. E questo elemento secondo del ringraziamento delle creature create è curiosamente presentato da un salmo che io non commenterò, ma che è da leggere in finale, il salmo 148, che ha una curiosità, che ha un po', direi per molti versi, reso difficile la sua interpretazione da parte degli studiosi. Infatti, oltre ai cieli, alle grandi apside celeste, ci sono 22 creature terrestri che lodano Dio. E la domanda è questa, perché 22? Più logico sarebbe 21, la cifra mistica, 3 per 7, la simbolica tipica del settenario, e invece sono 22. Ebbene, questa risposta è probabilmente nel fatto che 22 sono le lettere dell'alfabeto ebraico. Per cui, tutte le parole, non sono soltanto le parole scritte con l'alfabeto ebraico, quindi con la Bibbia, sono anche le parole che Dio ha scritto nell'interno della creazione. E per questo l'uomo è il liturgo quasi, è il sacerdote che celebra questo grande rito cosmico. Ed è anche per questo che alla fine l'ultimo salmo, l'ultima riga del salterio, dice che tutto ciò che respira dà lode a Dio, canta l'alleluia. Questo è il salmo 19. A questo punto possiamo fare due considerazioni di ordine generale e poi una conclusione. La prima considerazione. La cultura contemporanea è una cultura tendenzialmente tecnica, industriale anche. Di fronte al creato ha perso tendenzialmente la capacità, una capacità che è propria della cultura precedente, soprattutto la cultura agricola, ed è la capacità della contemplazione. Nell'interno dei salmi la natura è ininterrottamente creato, è ininterrottamente presente. In tutte le sue variazioni c'è un bellissimo idillio primaverile nel salmo 65. Noi prima, nelle Lodi, abbiamo cantato il salmo 29. È il canto di una bufera, di una tempesta che si scatena sulla Terra Santa. È detto il salmo dei sette tuoni, perché per sette volte risuona questa parola che vuol dire tuono in ebraico, è onomatopeico, ma anche voce. col, 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 per sette volte. È un tuono, ma è anche la voce, e anche cioè la parola di Dio. Ed è per questo che allora bisognerebbe essere capaci di ritornare un po' ancora allo stupore, alla contemplazione, al potremmo dire molte cose e mai finiremmo, ma la conclusione del discorso sarà Egli è tutto. Bella questa frase, è nella Bibbia. È il Siracide, 43, 27. Ecco, questo elemento della contemplazione, l'assenza dello stupore nell'uomo contemporaneo è segno di superficialità. È chino solo sull'opera delle sue mani. È incapace di alzare gli occhi verso il cielo, di ammirare in profondità i due estremi dell'universo e del microcosmo. Pensiamo anche che cos'è il microcosmo. E ha fatto così che l'uomo, vedete, privo di contemplazione, deturpa la Terra. La usa soltanto strumentalmente. Non ha più il senso della Terra come sorella. Dopotutto non dimentichiamo che noi ci chiamiamo Adam. E Adam, in ebraico, vuol dire il color ocra, il color rossiccio dell'argilla. La nostra parentela materiale con la Terra. E con la scoperta ancora di questa realtà, io ricordo, mi ha fatto impressione una volta perché quando ero ancora a Milano, in una domenica, io avevo, già allora, senza ancora essere vescovo, avevo la delega per le cresime. Quindi le domeniche, soprattutto, erano spesso dedicate sabati e domeniche, essendo questa diocesi immensa, gli ausiliari non potevano da sole, e quindi partecipavo, celebravo queste... E vado in una parrocchia della periferia di Milano, parrocchia proprio di una periferia piuttosto degradata. E naturalmente c'è il parroco ad aspettarmi, siamo lì fuori prima di entrare in chiesa con qualche altra persona e c'è una bambina che viene e prende per mano me e il parroco e ci porta a vedere nell'interno dell'asfalto della strada una screpolatura dell'asfalto dove era fiorita, sbocciata, cresciuta una fragola piccola. Ecco, noi l'avremmo schiacciata, noi passiamo sopra e l'occhio puro vedete che riesce a vedere la bellezza anche sepolta nella bruttura del mondo, nella bruttezza del mondo. Ecco, è per questo che bisogna ritrovare ancora questa capacità anche di vedere le armonie di Dio, i poemata di Dio, questi messaggi nella creazione. E questo, diceva Chesterton, il grande scrittore cattolico, dice, il mondo non perirà per mancanza di meraviglie. Sono tante le meraviglie. Il mondo perirà per mancanza di meraviglia. Non saprà più stupirsi di nulla. Ecco, e questo cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo creare una spiritualità che abbia una sua carnalità, paradossalmente. Una spiritualità che si interessi dell'orizzonte terrestre, che non lo ignori, che abbia anche a godere delle forme, della bellezza, della ricchezza dei frutti. La spiritualità cristiana non ci invita a decollare dalla realtà verso cieli mitici o misticoidi. È una realtà incarnata come il mistero centrale che vedremo della nostra fede e l'incarnazione. Non siamo, la spiritualità non è un'intimità disincarnata rispetto alla realtà umana. C'è un aforismo rabbinico particolarmente curioso che dice quando noi saremo giunti alla fine della vita noi saremo giudicati anche sui piaceri leciti che non abbiamo goduto. Cioè anche questo senso cioè che esiste la bellezza esistono dei valori che non un ascetismo cupo ci toglie e che invece devono essere vissuti in pienezza genuina se sono godimenti giusti e leciti. La seconda considerazione che vorrei fare è la seconda considerazione è invece quella che riguarda un tema molto caro dobbiamo dire a Benedetto XVI e già caro anche a Giovanni Paolo II peraltro che è quello del rapporto fede e ragione. fede e scienza quindi anche noi sappiamo che questo è uno dei temi più travagliati nella cultura contemporanea ne ho avuto esperienza io continua perché sembra che proprio automaticamente scatti una tensione di rigetto quando si entra nel dialogo tra fede e scienza pensiamo un certo positivismo che riteneva che solo gli asserti fisici sono quelli veri perché dimostrabili sperimentalmente Comte diceva questa visione però adesso per fortuna si sta sempre e di più sciogliendo proprio perché lo diceva un grande scienziato americano Stephen Gould diceva si tratta di due magisteri non sovrapponibili Noma aveva formulato un acronimo non overlapping magisteria magisteri non sovrapponibili sono fede e ragione fede e scienza sono due percorsi differenti la fede si interessa del fondamento come la filosofia la scienza si interessa della scena del mondo la prima risponde alla domanda perché che senso ha l'altra a come come avviene per cui il contrasto almeno in linea di principio non dovrebbe esserci poi evidentemente dato che trattiamo lo stesso soggetto gli sconfinamenti le tentazioni di invadere il campo altrui sono anche comprensibili Giovanni Mattista Montini ancora giovane sacerdote scriveva agli assistenti dei giovani universitari cattolici queste parole carità e verità non sono nemiche come non lo sono scienza e fede pensiero umano e pensiero divino estrema elaborazione critica ed estrema elaborazione mistica ecco questo è veramente quel non sovrapponibilità non sono in contrasto era una cosa che tra l'altro anche proprio in quegli stessi anni scriveva un grande scienziato come Max Planck l'inventore lo scopritore della teoria dei quanti che diceva scienza e religione non sono in contrasto ma hanno bisogno l'una dell'altra per completarsi nella mente dell'uomo che pensa seriamente ecco questo ci porta appunto allora all'importanza della ragione alla necessità della fides et ratio ricordate Giovanni Paolo II le due ali per volare nel mondo del mistero nel mondo dello spirito ma anche della realtà stessa per una comprensione piena ed è qui che allora dobbiamo ritornare anche a celebrare la grandezza della teologia la grandezza dell'approfondimento serio rigoroso non approssimativo quello di cui sono stati testimoni i grandi teologi che abbiamo alle spalle di cui è stato testimone proprio e qui lo riconosciamo non per ragioni estrinseche ma oggettive proprio è stato il teologo Ratzinger come lo sono stati tanti altri i due eccessi da evitare ci ricordava Pascal escludere la ragione non ammettere che la ragione questo potrebbe essere la sintesi anche di questo secondo pensiero anche se giustamente Pasquale andava oltre e ci insegnava anche la via con cui la teologia usa la ragione perché continuava a dire le cose umane bisogna capirle per poterle amare mentre le cose divine bisogna amarle per poterle capire in pratica la fede devi prima gettarti come in un mare nella fede e poi cominciare a navigare però anche in questo caso credere e comprendere si incrociano tra di loro necessariamente la via della preghiera è la via della teologia perciò devono stare insieme prima si intuisce si incontra il mistero con l'atto di fede e poi si cerca di penetrarlo e di decifrarlo e sono vedete vie che procedono in contrapunto non in opposizione quindi fede e ragione a questo punto io concludo abbiamo detto lo stupore ritroviamo il gusto della bellezza il gusto della contemplazione il gusto anche delle meraviglie che la scienza ci fa intuire ricordiamo che fede e ragione devono stare insieme la parola di Dio è la parola che è nelle scritture che è nella rivelazione ma la rivelazione è più ampia c'è un'altra parola che è quella nella natura nella creazione ed è per questo che il salmo 19 che noi abbiamo adottato forse non ce ne siamo accorti oggi ora poco fa quando noi abbiamo recitato i salmi abbiamo cantato i salmi di terza c'era citato usato la seconda parte del salmo 19 che io ho intitolato nell'interno di questa meditazione il canto del duplice sole perché del duplice sole perché dopo aver cantato il sole sole che percorre la sua orbita mirabile nel cielo a un certo momento lo si sente col suo calore incandescente tutta la prima parte nel salmo 19 viene rappresentato come uno sposo che esce dal suo talamo e si mette a fare questa lunga corsa nell'orbita immaginata nell'orbita del cielo è come un eroe un atleta poi subito dopo nella seconda parte c'è il canto del sole della parola di Dio cioè quella che noi abbiamo cantato prima infatti la parola di Dio è cantata con immagini solari i comandamenti del Signore sono radiosi illuminano gli occhi la parola del Signore è limpida il tuo servo ne viene illuminato quindi il sole fiammeggia nel cielo e ci parla della rivelazione cosmica ma c'è poi la parola di Dio che è l'altro sole che ci illumina in pienezza ecco parola rivelatrice e parola creatrice ecco questa era la riflessione che volevo proporvi a proposito di questa nuova teofania la teofania della creazione e concludiamo allora elevando una preghiera finale davanti alla creazione davanti alla varietà la sua ricchezza davanti alla grandezza dell'uomo avremo occasione di presentare anche la creatura umana che è a sé stante quasi come teofania di Dio c'è però già ho ricordato la sua fisicità già come importante c'è un verso di Giobbe che è veramente emozionante Giobbe 12 10 dice il Signore ha in mano l'anima di ogni vivente e il respiro di ogni essere umano e gli immagina che questo respiro che esce dalle nostre labbra sia come un filo una coda una parte un capo è nella nostra bocca dentro di noi e l'altro c'è la Dio e Dio se lo toglie noi piombiamo nella morte ecco questa idea perciò che anche la realtà fisica sia una realtà da amare da comprendere ecco io vorrei allora finire con una preghiera una preghiera spesso ho citato la tradizione ebraica anche perché usiamo un testo che prima di tutto è diventato preghiera per Israele e quindi per il popolo della prima alleanza ebbene ora vorrei finire con una preghiera una bella preghiera che è propria è la preghiera emblematica dei cosiddetti chassidim che vuol dire i pi che è questa corrente ebraica sorta nel 1700 in Mitteleuropa in Polonia e in Germania e che aveva una dimensione anche mistica sì qualche volta anche un po' superficiale e per certi versi anche persino immanentistica o anche fondamentalistica però aveva delle intuizioni e pensiamo una la sua canzone tipica il suo canto tipico era la canzone Tu laddove Tu e con la maiuscola idealmente il Tu di Dio in Yiddish naturalmente era e questa canzone loro la cantavano anche quando andavano incontro ai pogrom antisemiti e cantavano questa loro fiducia non dimentichiamo che ci fu per esempio in Ucraina a una Kiev vicino a Kiev una valletta intera che è scomparsa perché fu riempita tutta di ebrei chassidim uccisi con la collaborazione sia dei nazisti sia della della popolazione dell'Ucraina ebbene lì in questa valle la valle della nonna Babi Yar idealmente questi arrivavano cantando però sempre avendo sempre questa fiducia e la canzone ci serve proprio come preghiera per vedere che questo orizzonte in cui siamo non è un orizzonte vuoto di segni l'orizzonte materiale vi leggo soltanto la strofa ritornello l'antifona dovunque io vada tu oddio dovunque io sosti tu solo tu ancora tu sempre tu cielo tu terra tu dovunque mi giro dovunque ammiro solo tu ancora tu sempre tu l'anima vado la t l'anima l'anima Grazie.